Allora, buongiorno e buon weekend a tutti. Io vorrei dire la mia per quanto riguarda il ritiro immediato della patente per chi guida utilizzando il cellulare o lo smartphone. Allora, attualmente la legge dice che ti ritirano la patente soltanto se ti colgono in fragante nell'arco del biennio due volte. Con la prima volta c'è la murta, alla seconda volta invece c'è anche il ritiro di patente. Il primo dirigente della polizia stradale, Santo Puccia, in commissione trasporti della Camera, ha proposto di ritirare immediatamente alla prima sanzione la patente alle persone che guidano utilizzando il cellulare. Io personalmente sono d'accordo con il ritiro immediato alla prima sanzione, anche perché la maggior parte degli incidenti è causata appunto da chi guida utilizzando il telefono, perché ovviamente causa distrazione. Sono un pericolo pubblico numero uno. Ecco, sono il pericolo pubblico numero uno. Io mi meraviglio perché macchine come la mia, che è una normalissima Clio, un'utilitare quindi, ha già il bluetooth integrato nella radio e quindi alla fine se io voglio fare una telefonata, basta che schiaccio qualche comando della radio, parte automaticamente la telefonata e se la ricevo idem. Mi meraviglio di quale persone che hanno un macchinone che costano anche 60-70 mila euro e li vedi sempre con il cellulare in mano così o così all'orecchio per fare la telefonata e non guardano la strada. Cioè, a me è capitato più volte di vedere persone che venivano un pezzo della mia corsia perché appunto erano impegnati nel rispondere ai messaggi o nel fare la telefonata. A parte che adesso anche sulle macchine vecchie non c'era il sistema di bluetooth, però nei supermercati vendono le parecchie opposte e quindi basterebbe che con pochi euro tu risolvi la questione e basta. Cioè, ragazzi, troppi incidenti mortali sono stati causati da chi utilizza il cellulare alla guida. Cioè io per esempio adesso sto facendo il video ma sono qua fermo in un parcheggio tranquillamente. Cioè non ci vuole troppo, bisogna usare sale, sale in zucca, bisogna avere sale in zucca, bisogna avere testa. Ragazzi, la vita è una sola e non bisogna buttarla via per queste cazzate cose. Perché tu dal momento in cui prendi in mano il cellulare mentre sei la guida diventi un potenziale assassino. Io la penso così. E quindi sul ritiro immediato dalla patente per chi guida usando il telefono o il tablet io sono d'accordo. Spero che venga approfondito trovata questa proposta del primo dirigente della polizia stradale. Buon sabato e buon weekend da tutti. Ci vediamo. Ciao, ciao.